Finisce con un pari senza gol lo scontro diretto tra Amiternina e Agnonese per la zona play-out. Verdetto giusto anche se le occasioni non sono mancate su ambo i fronti. Per la squalifica del campo di Scoppito si gioca a porte chiuse sul neutro di Pizzoli che prima della gara presenta un piccolo strato di neve caduta nelle ore antecedenti il match ma che non è tale da mettere a rischio la disputa della partita che quindi si gioca regolarmente. Dopo la burrascosa sconfitta con la Yesina, Morisani senza gli squalificati, Petrone, Ritterio, Ibe e Cantoro debutta l'attaccante brasiliano Seolin, tesserato in settimana. Amiternina senza il portiere Di Fabio, senza Rausa e Di Ciccio. Terriaca preferito a Torbidone. La cronaca dopo appena 20 secondi prova da fuori Caprioli, palla a lato. Un minuto dopo proteste dell'Olimpia per un contrasto in area tra Gerosi e Saltarin ma per Parrella di Battipaglia non ci sono gli estremi della massima punizione. La partita si accende a metà del primo tempo. Sugli sviluppi del corner battuto da Caprioli, Terriaca anticipa tutti ma colpisce la traversa. Un minuto dopo la Viterina trova il gol del vantaggio. Sul traversone di Carrato, Gizzi di testa sorprende Biasella e gonfia la rete ma Parrella vanifica tutto e annulla per una spinta dello stesso Gizzi su Maresca. L'Agnonese pareggia subito il conto dei legni al 27esimo. Punizione venenosa di Di Lullo, nessuno devia e palla contro il palo. Poi Mariani si immola su Seolin. Avvio di ripresa di marca Morisana. Al sesto minuto Seolin libera al tiro catalano. In qualche modo respinge Valente vicino alla riga di porta. Al quarto d'ora punizione di Di Lullo in corna Pifano ma Gerosi distinto dice di no. Ma Mitanina si ridesta dal torpore a metà tempo. Al ventunesimo belle intuizioni di Gizzi per Terriaca che spara addosso a Biasella. Sul seguente corner il neo entrato Romano chiama ancora Biasella ad una gran parata. La partita resta tirata fino alla fine. Al quarantatresimo il neo entrato Lenart entra in area, potrebbe calciare ma si attarda e viene rimontato. Sul ribaltamento di fronte opportunità anche per Catalano ma Gerosi respinge l'ultimo brivido nel terzo minuto di recupero con la rovesciata di Ricamato subito dopo il fischio finale che certifica lo 0-0. e la Mitanina interrompe la striscia di cinque sconfitte consecutive. Direttore Attardi 1-0 complessivamente giusto anche se voi recriminate per quel gol annullato da Gizzi. Come valutate questa partita? Sì direi di sì per quello che si è visto in campo direi che il pareggio è giusto. Certo, quell'episodio è inspiegabile perché mi sembra che è un gol davvero pulitissimo senza alcuna fallo da parte del nostro attaccante. Le partite equilibrate si giocano sugli episodi e quell'episodio poteva cambiare la gara però nell'arco dei 90 minuti direi che il pareggio è giusto. Penso che il pari sia risultato abbastanza giusto visto quello che si è visto in campo. Poi la partita è stata anche abbastanza bella e penso una cosa da sottolineare è stato l'albitraggio veramente bravo. Forse era da tempi che non si vedeva. Mentre riguarda la parte tecnica, tattica, diciamo che loro forse hanno avuto i primi minuti meglio dei nostri ragazzi mentre noi abbiamo fatto una buona seconda parte del primo tempo e soprattutto adesso nel finale di gara sempre stavamo messi meglio però tutto sommato le occasioni ci sono state da una parte e dall'altra.